Salve a tutte e a tutti. Riprendono i nostri incontri per parlare in pochi minuti di un libro. L'anno scorso chi ha seguito sa che mi sono immaginato un rapporto emistolare con una mia ex alunna a cui suggerivo un libro alla settimana. Ma da quest'anno non ho più nessuna responsabilità scolastica e dunque non ho più alunni o alunne a cui rivolgermi. Mi rivolgerò così e ringrazio LabTV per la disponibilità direttamente a chi guarda questo programma, con la speranza che oltre al bisogno di leggere per godimento si avverta la necessità di comprendere attraverso un libro meglio il mondo. Il libro di questa sera è un classico, è Belle Amie, il secondo romanzo di Guy de Maupassant, pubblicato nel 1885. Nella sfavillante Parigi della belle époque, affascinata dalla travolgente e frizzante colonna sonora fornita dalle opere di Offenbach, mentre il giovane Debussy già lavora i suoi capolavori che trasferiranno in musica l'impressionismo degli artisti avviatisi finalmente al successo e uno dei più accreditati archidetti del ferro, Gustave Eiffel, si prepara ad innalzare nel cielo della capitale un imponente pilastro metallico, formato da quattro travi reticolari svasato in basso e che si congiungono in cima, il protagonista del romanzo, Georges de Rouen, detto Belle Amie, progetta la sua scalata sociale. Egli è pronto a tutto pur di lasciare la sua manzarda che guarda sulla ferrovia e fare il suo ingresso trionfale nei salotti buoni della società che conta. Così, sfruttando senza il minimo ritegno il suo fascino, passa da un letto a un altro e fa carriera nel giornale in cui lavora, conquistandosi la fama di colto viveur. Georges è un seduttore senza scrupoli, antepone ad ogni valore morale la propria sfrenata e irrefranabile ambizione, costruendo su di essa una fortuna che sembra non conoscere ombre. Belle Amie è un capolavoro assoluto. Con esso lo scrittore francese ci offre uno straordinario ritratto della società parigina del XIX secolo, in cui si mescolano le tossiche interconnessioni tra stampa, politica e affari. Una mistura inquietante tra chi dovrebbe controllare ed essere la voce critica di ogni potere, chi quel potere lo esercita nelle istituzioni e gli spiriti animali del capitalismo nascente. Sembra necessario l'occhio dell'artista che riesce a cogliere un aspetto che dovrebbe aiutare a riflettere. Ogni inquadratura è sempre una scelta morale. I classici hanno questo di bello e perciò vanno letti, perché vi ritroviamo sempre qualche risposta giusta che potrebbe esserci di aiuto. Quanti sono e chi sono i Bel Amie di oggi? La mia idea è che l'informazione, spesso a senso unico, costituita dal coro a sostegno dei potenti per tirare quattro paghe per il lesso, come avrebbe detto Carducci, sia uno dei principali problemi con cui oggi dobbiamo fare i conti. Ci si dimentica spesso, troppo spesso, che la stampa serve ai governati e non ai governanti. Vi invito per concludere a un esperimento. Domani, 15 ottobre, ci sarà una mobilitazione internazionale per Julian Assange, il giornalista e attivista australiano di cui gli Stati Uniti hanno chiesto al Regno Unito l'estradizione. Proviamo a vedere quanti saranno gli organi di informazione che parleranno di questo caso. Dobbiamo ringraziare Assange, così come la Anna Politowskaia e Giancarlo Siani e tutti i giornalisti e le giornaliste che a loro esempio si ispirano. Quanto ai Bel Amie del nostro tempo dovrebbe bastare e avanzare quello mirabilmente raccontato dal grande scrittore francese. e Grazie a tutti.